Ciao ragazzi, questo è un problemino di aritmetica molto carino che fa parte dell'argomento relativo alle equazioni lineari. Ecco, du è un numero fatto di due cifre, d è la cifra delle decine, u è la cifra delle unità e in particolare la cifra delle decine è la metà della cifra delle unità. E poi scambiando d ed u, quindi creando un nuovo numero ud, quindi u diventa la cifra delle decine e d è la cifra delle unità, sottraiamo a questo nuovo numero il numero di partenza, cioè du, questa differenza fa 27. Ecco, il problema ci chiede di trovare d ed u. Come procediamo? Ecco, ud come lo possiamo scrivere? Essendo un numero in base 10 scriviamo u per 10, perché adesso vedete u è la cifra delle decine, quindi scriviamo u per 10, più che cosa? Più d, quindi più d, meno, quindi sto seguendo questa condizione, quindi meno, scriviamo, riscriviamo du facendo vedere appunto la base 10. Quindi, apro parentesi, d per 10 più u uguale a 27. Ecco, riscrivo meglio questa espressione, quindi ho 10 volte u più d, meno 10 volte d, meno u, che è uguale a 27. Allora, 10u meno u fa 9u, quindi 9u, meno 9d, che è uguale a 27. E da qui, ragazzi, dividiamo tutto, ambo i membri, per 9 e otteniamo u meno d uguale a 3. Adesso, ricancelliamo questa parte, sfruttiamo il fatto che d è la metà di u, quindi al posto di d ci mettiamo un mezzo u, quindi u meno un mezzo u uguale a 3, e quindi facciamo u meno un mezzo u, che fa appunto un mezzo u uguale a 3, di conseguenza u uguale a 6. E d, ragazzi, visto che d è la metà di u, d è uguale a 3. Quindi abbiamo trovato le cifre del numero di partenza, che era du, quindi il numero è 36. Adesso non mi rimane che invitarvi a visitare il nostro blog di matematica gratuita, in cui troverete altro materiale didattico gratuito da poter scaricare, da poter visualizzare. Vi invito a iscrivervi a questo nostro canale YouTube, a fare clic su mi piace, questo per voi è gratuito, per noi è importante, per portare avanti questo progetto di didattica della matematica. E quindi vi saluto e vi ringrazio. Grazie a tutti.